Il cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, fino alle 18, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Rioveggio e Aglio. Stanotte in orario 22.06, chiuso lo svincolo di Calenzano in entrata verso Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!